Allora... Saranno dispersi. Aiuto! Eh? Stanno tutti bene? Respira. Sono considerati reali. Potete eliminarci. Sì. 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 Sf.: 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 È probabile che Mary voglia fare piazza pulita e ha ancora il controllo dei microchip vicini a lei Dobbiamo disattivarli dal sistema di sicurezza se vogliamo evitare una strage Ricevuto Grazie Sicuri che non ci sia pericolo? Che pericolo? Che si ribellino Che si rivoltino contro gli oppressori o cazzate del genere No, non sono così dispera Oh, hai sentito? No, ma insomma Ma che stracazzo è? Io ti spacco il naso, be... Guardo le spalle Guardo le spalle L'efficente! Cosa sta? Eh? Cosa sta? Faccia di merda! Faccia di merda Grazie a tutti. Fantastico. Tutto sistemato. Guarda qui. Dai, cazzo, dai! Cazzo, le rotamme di merda! Credete dei duri ora? Cazzo puro! Peter! Oh, Gesù! Bene, beh, almeno i chip sono disattivati. Mary si è barricata nell'ufficio di sotto, ma il sistema centrale permetterà di rimettere in funzione l'ascensore. Ah, le guardie sono in allarme, quindi cerca di sopravvivere, ok? Meraviglioso. Oh, Gesù! No! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Fottuti i microchip, non vanno. Sono in ufficio. Sterminate quei parassiti. Peter è morto. Portate subito qui il culo e sterminate queste blatte. Arrenditi. Ehi, ti faccio... Ti fa così schifo vivere. Ok, vado. Deve fuggire. Prova di là. Occhio che è ancora in giro. Bene. Andiamo. Andiamo a vedere. Ok. Bel colpo. Il bersaglio... E' finito di giocare. Non hai vie d'uscita, te ne rendi conto. Sono una merda più a scuola. Basta, arrenditi! Vado a dare un occhialino! Ti riduca un colabroto! Sono sotto tiro! Sei morto! Vado a riparo! Mi stanno sparando! Mi stanno sparando! Si comincia! Vattenfula sta merda! Sono sotto attacco! Mi serve un rinforo! Ne vuoi ancora? Si spavano all'osso! Ok! Ho una corretta! Sono fottuta, cazzo! E' un'occhiata! Innova! Non puoi fare niente! Sì, non ti hai mica presa! Vado a dare un'occhiata! Su, di qua! Mi serve un riparo! Controllo io! Ok, controlliamo qui intorno allora! Qui non c'è nessuno! Vado di là! Vado a dare un'occhiata! Vado a dare un'occhiata! Vado a dare un'occhiata! Vado a dare un'occhiata!